Terza giornata di gare in quelle di Mallorca, questa volta ci trasferiamo a Val de Mossa, una località antica, lo vedete anche dalle immagini, con molti luoghi da visitare, è particolarmente interessante questo antico monastero, ma è conosciuto a Val de Mossa soprattutto per il fatto che qui un musicista di fama internazionale, Federico Chopin, che si ritirò da queste parti insieme alla scrittrice George Sand attorno al 1830, quegli anni, scrisse alcune delle più importanti opere, ma noi siamo qui naturalmente per seguire il ciclismo e abbiamo incontrato anche per strada atleti, corridoi cicloturisti come noi, appassionati di ciclismo, che si sono recati proprio qui a Val de Mossa per vedere la partenza di questa terza giornata della Challenge a Mallorca, una gara, abbiamo detto, che è giunta alla 24esima edizione. E qui abbiamo visto il sindaco, Giarme Villa-Mulet, con il presidente dell'organizzazione, Manuel Hernández, e il papà dello spagnolo Valverde, che è giunto secondo il giorno precedente, eccolo qui inquadrato, sorridente, oggi è il percorso ideale per questo atleta che ha la ricerca spasmodica della prima vittoria stagionale. Al via anche Fabian Cancellara, che non ha in questa giornata il percorso adatto alle sue caratteristiche, ma lui deve fare gamba, deve forzare i muscoli per la stagione, sta per iniziare. Ed è il sindaco, l'alcalde, che taglia, come la tradizione qui in Spagna, la sinta, così viene chiamata, e poi la stretta di mano tra Cancellara e Valverde, due tra i principali protagonisti del ciclismo moderno. Ormai siamo prossimi alla partenza, gli atleti hanno da percorrere 165 chilometri, in quella che viene definita la tappa regina della Cancellara a Mallorca 2015. Sette i colli da scalare. Il primo, proprio dopo 5 chilometri di gara, è il Col de Claret, poi ci sarà il Col de Galilea, il Col de Grau, una colla di quarta categoria, nello specifico quello dove ci siamo recati noi, proprio per registrare un passaggio della Corsa Spagnola. In questo caso avranno percorso 59 chilometri, quando trasiteranno davanti ai nostri obiettivi. Ci sarà poi da percorrere il Col d'Onor, un col di seconda categoria, il Col de Sabatalla alto, un col di seconda categoria, poi il Col de Puig Maior, che il giorno primo è stato affrontato da un'altra parte, un col di prima categoria, mentre quest'oggi i punti che verranno assegnati per la classifica del Gampione Nuova Montagna sono quelli che vengono solitamente distribuiti da un col di seconda categoria. Ed infine, a pochissimi chilometri dalla conclusione, il Col de Bledà, un porto di montagna di terza categoria. Intanto avete visto che stanno transitando sotto i nostri occhi e sotto i vostri, naturalmente che ci seguite con passione i corridoi. È transitato un gruppo abbastanza folto di atleti che hanno caratterizzato la prima parte della fuga e qui invece ecco che ci sono gli uomini della SCAI che stanno facendo l'andatura tra gli inseguitori. Un gruppo che comunque è tranquillo, del resto è una tappa dura, questa è la tappa regina, quella che in un certo senso affronta tutte le difficoltà della Serra de Tramontana che così come abbiamo già detto è un luogo di impareggiabile bellezza ricca ovviamente di salite e di laghi. Insomma è una cosa veramente, credetemi, veramente bellissima da vedere. Non lo sarà così naturalmente per questi atleti che invece sono qui a Mallorca per affrontarle le difficoltà in programma con una gara prestigiosa. Giunta, abbiamo detto, alla ventiquattesima edizione l'anno scorso due tappe, due giornate di gara così è meglio dire, sono state conquistate dal nostro Sascha Modolo. Poi la gara come quella di oggi della Serra de Tramontana da Michele Chiatoschi che poi di fatto conquistò a fine stagione il campionato del mondo. E poi l'ultimo giamato di gara fu a favore di Gianni Merzman. Ma qui con le immagini abbiamo visto una delle caratteristiche di Soller col suo trenino ma la cronaca ci porta subito a parlare della località dove la gara sta per giungere cioè Deglia una delle bellezze di questa zona e dove avete già potuto vedere il protagonista di giornata così com'era da previsione è Alejandro Valverde un'atleta che è stato protagonista da prima della fuga numerosa che ha caratterizzato la parte iniziale della gara e poi si è messo tutto da solo al comando della corsa ed ora è in solitaria da quando mancavano 40 km alla conclusione. Per lui il Gran Premio del Puig Maior lo vedete di seconda categoria posto al 140 km di gara lui aveva già ottenuto il passaggio solitario sulla Col de Sabataglia al 124 km ed ora si appresta a superare la salita del Col d'Embleda che è posto a circa 5 km dalla conclusione di Deia di cui vedete alcune sfaccettature che naturalmente attirano non solo la nostra attenzione ma speriamo anche la vostra. Eccolo l'Alessandro Valverde classe 1980 già numero uno nella classifica mondiale nel 2006 e nel 2008 e l'anno scorso appunto al termine di una stagione dove forse non ha vinto molto ma sicuramente ha collezionato punti tali da poter vivere di rendita. Sull'ultimo collo di giornata lo avete visto in seconda posizione passato Leopold Koenig ed in test Tim Vellens. Siamo ormai qui a Deia ad attendere la conclusione della gara e naturalmente arrivano le personalità tra cui il nostro amico Arturo Sintes presidente della Federazione delle Ballerari di Cichini. Arriva anche la vettura del direttore di corsa Norbeia Andrade uomo di grande esperienza ma soprattutto uomo della pista. Non dobbiamo dimenticare che qui a Mallorca esiste un impianto coperto di primissima qualità ma attenzione perché ormai il corridore spagnolo Alejandro Valverde è prossimo a tagliare per primo il traguardo è sua la tappa regina di questa challenge a Mallorca 2015 la ventiquattesima della storia e merita giustamente il replay in seconda posizione staccato di oltre un minuto è Tim Vellens della Lotto Sudal seguito a pochi secondi da Leopold Koenig del team Sky che è giunto settimo nella classifica generale della Tour de France dello scorso anno poi lo spagnolo Royas l'olandese Demer e buon sesto posto per Giovanni Visconti davanti a Bolla Benovo Schleck Meravui e Formulo insomma un gruppo di italiani che si sta facendo veramente vedere nella migliore dei modi soddisfatto anche per la sua giornata è il campione lussemburghese Schleck ma ora è il caso proprio di andare ad osservare il momento della premiazione di questo trofeo Sierra Tramontana da Val de Mossa ad EIA 165 km alla media di 36 221 la vittoria come avete tutti voi potuto vedere è andata ad Alessandro Valverde una vittoria voluta con tutte le sue forze che ha coronato così questo stato di verifica della forma del campione spagnolo ma eccoci hai la premiazione dei primi tre in terza posizione Leopold Koenig del team Sky in seconda posizione abbiamo detto team Valens sono accolti i corridori dal sindaco Magdalena Lopez la letta dico la coppa in mano e poi da una funzionaria del consiglio di Mallorca del dipartimento di presidenza Maria Isabel Crespi sorridente più che mai lei ha il compito di direttrice delle relazioni istituzionali del consiglio di Mallorca ma avete visto che naturalmente il più sorridente di tutti è sicuramente Alcando Valverde questo atleta qualche volta anche discusso che non è mai riuscito per qualche motivo per lotte interna nella squadra spagnola a conquistare il titolo mondiale ma è uno tra i migliori corridori al mondo e questo onora quindi gli organizzatori che hanno da iscrivere sul prestigioso Albo Doro delle varie prove il nome di Valverde ma onora anche il presidente della Federazione delle Baleari eccolo Arturo Sintes cicloturista praticante grande appassionato che gli ha consegnato uno dei tanti tofei delle dotazioni delle premiazioni di questa challenge di Mallorca ci sono premi anche per protagonisti sotto vario aspetto della prova nello specifico è un corridore che viene dall'Eitea il suo nome è Kudus Meraui a lui il premio alla combattività lui che gregia per la kubecca squadra sudafricana quindi un premio anche per questo atleta che sicuramente è cresciuto nelle file del centro mondiale dell'USI a EGL in Svizzera e poi la volta del colui che è arrivato secondo sul traguardo qui di Deia Team Valens che ovviamente è stato premiato per il trofeo delle traguardi volanti patocinato dall'associazione alberghiera appunto di Mallorca e di Playa de Palma una soddisfazione doppia quindi per l'atleta il giovane atleta belga e poi naturalmente il premio ancora una volta l'Oraccar uno dei tanti sponsor di questa manifestazione Valverde tu sei l'uomo da battere anche quest'anno ha sido la victoria che ha sido molto lavorata per parte dell'equipo per parte mia e ayer non si consigliò la victoria ma fu una lavoro fenomenal di tutto l'equipo contento io creo che le sensazioni sono buone questo invierno mi ho incontrato bene e seguiamo Isabel Crespi una signora importante nell'ambito del governo di Mallorca oggi un momento molto importante per la vita di questa comunità è molto importante per Mallorca questa etapa reina della serra promozione della serra di Tramuntana patrimonio della umanità per noi è un orgullo tener come campeone nella serra di Tramuntana il signor Valverde Arturo Sintes presidente della federazione ciclistica delle Baleari un momento importante per lo sport delle due ruote un momento di promozione per tanti giovani che iniziano su queste strade a pedalare io parlo un po' di italiano noi viviamo un tempo fantastico nella isola la federazione ora più di due mila duecenti licenze e il ciclismo va molto bene siamo molto contenti ti abbiamo conosciuto a Minorca in occasione di una volta cicoturista ti avvisiamo che a maggio saremo qui con un altro gruppo di italiani ma sappiamo anche che tu proprio tra pochi giorni organizzerai una manifestazione su pista qui a Palma di Mallorca quindi una una pista che cresce quella spagnola sì questo è vero Mallorca sempre una tradizione tanti anni di pista noi avevamo piste in Mallorca da 1880 cominciamo qui la pista a Mallorca e ora una scuola più di 60 bambini e la challenge di pista con cinque prove e la mia che è la quattro volte che la faccio prossimo domenica dia 8 per tutte le categorie le baleare sono importante per il cicloturismo bueno sì il cicloturismo all'isola baleare è molto perché noi facciamo un racconto da qui a Mallorca quasi 130 mila all'anno che fanno cicloturismo e competizioni che vengono da tutta l'Europa che in Mallorca sta crescendo Ibiza e motocicloturismo di mountain bike noi stiamo in un gran un gran momento abbiamo la la Mallorca 312 a finale di aprile con più di 2000 persone questo per una isola è moltissima gente in una giornata e ora andiamo a vedere un'immagine serale di quello che è il centro storico la famosa cattedrale di Santa Maria